Secondo me, in mio modestissimo parere, il porto deve essere chiuso e si devono dare una mossa per farci capire dove vogliono arrivare, anche perché non è una situazione sostenibile. Così l'armatore Mimmo Grosso, che come un po' tutti gli altri, appare quasi rassegnato dinnanzi a una situazione che non si sblocca. Il porto di Pescara è insabbiato e ci può scappare la tragedia per le imbarcazioni che si incagliano e per l'incolumità stessa dei marittimi. Sono passati anni, dice Mimmo Grosso, e la situazione è sempre la stessa, nonostante le parole, gli interventi e i soldi spesi. Mi auguro che si arrivi subito ai fatti. Anche questa notte, quando abbiamo fatto rientro, è stata una tragedia. Sarà una tragedia anche domenica notte. Parecchie imbarcazioni nostre sono andate a Ortona, ma anche là si trova difficoltà persino per fare operazioni commerciali di sbarco. Quello che dispiace tantissimo, e sono molto amareggiato, dopo tutte le battaglie che abbiamo fatto nel 2013-2014, siamo riusciti a rimettere in piedi un porto. La troppa superficialità in questi cinque anni passati, il nostro troppo buonismo, ha fatto sì che il porto di Pescara tornasse di nuovo a essere una piaga per la città e per i pescatori, per tutto l'indotto che gira sulla pesca. C'è questa benedetta vasca di colmata. Addirittura ci dissero che occorrevano 48 mesi affinché poi questi sedimenti del fiume Pescara si purificassero. Sono passati? Cinque anni, quindi ci siamo. Quindi, essendo un rifiuto speciale, aveva bisogno di un trattamento speciale con dei costi elevati. Ora questo non è più, quindi si poteva procedere allo svuotamento. Io mi ricordo quest'estate il nostro presidente, Francesco Scordella, camminò sul fiume. Le barche grandi soffrono, soffriranno anche le piccole imbarcazioni. Ortona non è un ormeggio sicuro. I lavori del piano ricordo portuale per il nuovo porto si sono fermati o procedono in maniera lentissima. Non so che dire. Anche gli operatori marittimi, commerciali e turistici del porto di Pescara sembrano rassegnati. Gianni Leardi. Fino ad agosto scorso ci avevano detto che dovevano iniziare i lavori per i progetti dei nuovi moli, ma adesso non abbiamo più visto nessuno, come sempre. Purtroppo ci dobbiamo augurare qualche calamità naturale perché si senta ormai parlare di noi. Io non riesco ancora a spiegarmi come mai Pescara, una città di mare, non riesco ad accogliere gli interessi di tutti gli operatori e anche gli amministratori. Per me è una cosa assurda, ma la colpa è anche nostra, di noi cittadini comuni. Intanto dal vertice in prefettura, oggi a Pescara, tra le parti interessate, regione, direzione marittima, autorità portuale, biancona, armatori, operatori commerciali, ci sono stati dei punti fissi. Obiettivo principale il dragaggio dell'avanporto, riferiscono del vecchio e grosso alla fine dell'incontro. Bisogna studiare quanti metri cubi di sabbia da dragare, poi conferenza di servizi, in tutto dieci giorni. Poi potrebbe partire il dragaggio. Solo in un secondo momento si affronterà il problema della vasca di colmata con altri incontri, si spera, nel più breve tempo possibile.